Il ragazzo voleva ambiva ad avere una categoria superiore, si è cercato in qualche maniera anche di trovargliela anche se non ha avuto in effetti delle richieste precisissime, se no qualche pur parlay. È evidente che il proprio procuratore, il suo procuratore ha provato a proporlo da qualche parte ma era un giocatore ancora legato a Monfalcone e come tale bisognava che il nostro presidente accettasse una cifra che doveva essere adeguata anche a un ultimo anno di contratto ma doveva essere un po' adeguata. Non c'è mai stato questo, il giocatore è rimasto e mi pare che cominci e sia rimasto con la volontà, l'impegno, il sorriso. L'ho visto in queste prime due settimane che è ritornato da noi sorridere, cosa che l'anno scorso faceva molto poco forse per i risultati ma sicuramente non solo per quelli.